Oh no! Ecco che ricomincia! Dobbiamo atterrare! È stato divertente, generale, ma non è tempo di rivelarmi chi sono io. Sei Steve Roland e lui. Chi sono io? Generale! Andiamo, generale! La mangusta e i suoi uomini stanno venendo a prenderli! Ti sento, Kim! Rimani dentro! Veniamo a tirar di fuori! Sono spacciata, generale! Mi sente? E quali altri problemi ci creerà questa volta? Ci penso io. Potrebbe essere più loquace di più. Ok, ruta a 270. Il Lonely Lake è solo a poche miglia da qui. Falso all'arco! Era la cabina sbagliata! Non riusciamo a localizzare il bersaglio! Continua a cercare, la mangusta sta arrivando. Ciao ragazzi, ciao a tutti! Ben ritrovati qui su 13, il gioco che sto portando in questa serie natalizia. Un'altra volta eravamo scappati in elicottero e adesso dobbiamo appunto trovare questa baita, questa cabina. Prima di cominciare ragazzi, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale qualora ancora non l'aveste fatto. La maggior parte di quelli che guardano i video, mannaggia a voi, non sono iscritti. Quindi fatevi sotto con le iscrizioni, mi raccomando. E attivate la campanella delle notifiche, mi raccomando, perché vorrei raggiungere i 600 iscritti entro la fine dell'anno. Ormai ci siamo, però si può fare sempre meglio, insomma, dai! Così l'anno prossimo iniziamo a proiettarci già verso qualcosa di più ambizioso, insomma, dai! Mille iscritti, perché no? Così da attivare anche la monetizzazione. Mi manca l'effetto sonoro dalla risata. Va bene. Vediamo se riesco a battarli tutti di qua. No. No! Non devo sparare due colpi, ma che cavo! Solo becco in testa. Eh, perché qua poi... Questo è un livello tutto a fucili, mi pare. Non ci sono altre armi. Purtroppo. Però, cioè, da un lato è brutto. Però, allo stesso tempo, insomma, mi dà l'opportunità di sparare questo fucile, che mi piace veramente tanto. Non so perché, magari è più scarso rispetto ai mitra, e va bene. Però, boh, mi è sempre piaciuto parecchio questo fucile qua. Sarà che sono un po' appassionato di armi antiche, boh, magari anche per questo che gioco a Red Dead Redemption. Però, boh, mi piace veramente tanto. Com'è il nostro bersaglio? Non abbiamo neppure una foto? Rilassati. Se vedi una donna che se ti vede impazzisce, acchiappala. Vabbè. No? Ah, mi sa che là c'è la mangusta, ma non posso ucciderla adesso. Aia. Eh no, la troverò prima io. Cosa abbiamo qui? Medikit. Cosa c'è? Uh, bene. Molto bene. Molto, molto bene. Poi lo leggiamo nel prossimo gameplay, magari. Come faccio di solito. Ma ragazzi, fa schifo. Tu sai fare di meglio? Questo tizio non andrà troppo lontano. Beh, è un po' pazzo di neve. Uh, stanno arrivando gli altri. Aspetta, aspetta. No! Bene. La sono cavata senza troppi danni, diciamo. Ehm... Che cavolo? Posso rompere il manichino? Oddio! Scherzetto. Non ricordavo questo. Però... Devo dire che... Ogni volta è strano. È creepy stranioso. Come jumpscare ci sta. Poi a volte mi succedeva che erano loro a sparare al... 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 Al po' pazzo di neve. Tipo, sentivo sta... Sta sviolinata, ma... Non riuscivo a capire il motivo, diciamo. Forse era anche questo, a rendere un po' creepy il livello. Perché sentivo sto suono senza capire... Il motivo, insomma. Ok, l'amico tu. L'amico di quello. Ti abbiamo lasciato troppo presto. Devi trovare la cascata. La cabina è dall'altra parte del fiume. Ma qua c'è un elicottero militare, porca puttana. Aiutatemi. Oh, che cazzo? Tu da dove esci fuori? Da dove è spuntato questo? Bah. Qua c'è un badile. Vorrei andare a vedere dall'altra parte, però non vorrei che poi mi fa cadere... Di sotto. C'è qualcosa? No. Sembra di no. Va bene. Ehm... Dove va? Dove va? Ah, mi sembra che devo fare il giro qua. Sì, sì. Faccio un piccolo momento sponsor, ragazzi, per ricordarvi di... Ovviamente di iscrivervi al canale, ma anche di seguirci su tutti gli altri nostri soldi. social, di cui trovate come sempre il link in descrizione. Perché stiamo ultimando la... No ultimando. Siamo a buon punto nella traduzione di Mizurna Falls, un vecchio videogame, retro game per la PS1. E... Molto interessante. Per chi conosce ed è appassionato di Twin Peaks, insomma, saprà già di cosa si tratta. Però, per chi non lo conosce, potrebbe essere un'ottima scoperta per giocare anche a qualcosa di nuovo, quindi mi raccomando. Iscrivetevi, perché io ogni novità, diciamo, la pubblico o qui o su Instagram, insomma, fatevi sotto, mi raccomando. Dove vado? Mi sembra che devo andare da sta parte. Cazzo, no, no. No, perché... Uh, no, vai via. Vediamo se quest'altro è più preciso. Sì, eh, più preciso. Ah, ve l'ho detto che mi piace questo fucile. C'ha solo due colpi, però li merita tutti. Vedi? Precisissimo. Vanno più che bene. Ottimo, c'è qua un traggiunto. Eh, che dite? Ci curiamo? Vediamo quante cosa... Sì, dai. Medi che tu userei. Giusto per stare tranquilli, insomma. No, non devo andare nel fiume. Vado qui qua. Aspetta, aspetta. Che a te ci penso io. Eh, volevo farlo con... Con il colpo lì, però non... Non mi ricordavo il tasto, quindi... Non deve... Evitare, perdere vita così a cazzo. Oh, basta! Torniamo indietro! Che parla? L'ho persa! Tu cosa? Che cazzo? No! In boscata, cazzo. Benvenuta in Kansas, Dorothy. Dorothy. Sarà qualche battuta di qualche film, sicuramente. Fa un culo. Ricarica. Eh, qua ci conviene saltare... Muori. Affanculo. No! Madonna, pensavo che... Si facesse male. Eh, vabbè. Precisione zero, però. La fermo o è precisissimo? Si rimuove un attimo? No! Ma che cazzo? Proprio motiscari. Eh, vabbè, sì, dai. Che culo. Ho avuto un culo, ragazzi. Oh, chi è? No! Eh, vanno a chiamare un altro. Ce ne sono pochi, effettivamente. No, no, no. Non vado avanti con questo, che è male. Posso andare là sopra? Devo raccogliere il fucile di quello che vuoi. Se c'è proprio il fucile, mi pare di sì. Dove è finito? Scomparso. Oh, quello cuore... Va, vabbè. Mi sa che là si conclude il livello. In teoria sì. Quindi vi ringrazio per avermi seguito. Se vi vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche, mi raccomando. Noi ci vediamo nel prossimo video. Io mi avvio verso la conclusione, perché mi sa che lì si conclude il livello. Oh no, tra poco. Ho detto una cazzata. In teoria tra poco. Oddio. Mi ricordavo che si interrompeva di qui a... Ah no, dobbiamo andare verso la cabina, effettivamente sì. Ho detto una cazzata, scusate. Che dovrebbe essere là. Nel caso si conclude lì. Io vi ho già salutato e vi ho dato già l'appuntamento al prossimo video. Sì, eccola qua. Oh no, è un Film, è un Film.